Oltre 9 milioni di euro per il miglioramento della rete stradale sono stati destinati alla provincia di Teramo per la sistemazione della viabilità delle aree interne, così come individuate dall'Agenzia per la coesione territoriale. Teramo sarà soggetto attuatore della manutenzione delle zone dell'Alto Aterno, Gran Sasso Laga e Valfino Vestina, essendo la provincia con più comuni ricompresi nei territori individuati. Le risorse saranno così suddivise, 5 milioni 516 mila euro per l'area Gran Sasso Laga e Alto Aterno e 4 milioni 175 mila euro per quella Valfino Vestina. Il finanziamento, un fondo complementare PNRR del Ministero delle Infrastrutture, dovrà essere utilizzato non per fare una semplice manutenzione straordinaria, ma per migliorare l'accessibilità delle aree interne. Riguarderà strade di competenza regionale, provinciale o comunale, qualora queste rappresentino l'unica via di comunicazione tra i comuni appartenenti all'area individuata. La programmazione degli interventi sarà spalmata su sei anni, fino al 2026, dopo essere stata discussa e approvata in Assemblea dei Sindaci. Il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, ha già convocato un primo incontro, i tempi sono stretti, il piano va approvato entro il 31 dicembre. È una battaglia vinta dalle province, è il commento di Di Bonaventura. All'inizio il governo non voleva utilizzare i fondi straordinari per le strade, bene abbiamo fatto ad insistere, dimostrando che lo stato delle reti stradali, soprattutto quelle delle aree interne, rappresenta, dopo dieci anni di risorse insufficienti e intermittenti, una vera emergenza. Una strategia finalmente decisa dal governo per arrivare ai territori più fragili, quelli distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali e troppo spesso abbandonati a loro stessi, che però coprono complessivamente il 60% dell'intera superficie del territorio nazionale, con il 52% dei comuni e il 22% della popolazione, quell'Italia più vera e più autentica.